La legge di Ohm sono due. La prima è quella che abbiamo studiato, che ci dice che la tensione è direttamente proporzionale alla corrente, mentre la seconda legge di Ohm, detta legge della resistività, ci dice che la resistenza R di un conduttore è direttamente proporzionale alla sua lunghezza e inversamente proporzionale alla sua sezione. Allora, in pratica, che cos'è la resistenza? L'abbiamo detto in un'altra occasione, ma ripetiamo, è l'attitudine che un conduttore ha ad opporsi al passaggio di corrente elettrica. Quindi, se la resistenza R aumenta, la corrente deve necessariamente diminuire. Allora, osserviamo questa formula qua. Questa formula si legge in questo modo. R uguale al prodotto di ρ, che viene chiamata la resistenza specifica o resistività del materiale, per L, che è la lunghezza del conduttore, fratto A, area della sezione del conduttore. Ecco, vediamola in questo disegno qua. Allora, la lunghezza del conduttore sarebbe la distanza da questo punto a questo punto, la lunghezza del conduttore, mentre l'area o la sezione è questo punto e questa, in questo caso, essendo il conduttore a sezione circolare, è appunto quest'area qua, indicata qui con S, mentre qui indicata con A, e questa sezione qua, ok? Allora, cosa ci insegna la seconda legge di Ohm? Ci insegna che la resistenza è direttamente proporzionale alla lunghezza del conduttore, è inversamente proporzionale all'area. Si capisce, perché se aumenta la lunghezza del conduttore, raddoppiando la lunghezza del conduttore, gli elettroni di conduzione hanno da fare un cammino doppio e di conseguenza incontreranno una resistenza doppia. Mentre è inversamente proporzionale all'area. Che cosa significa? Che è chiaro che più è grande la sezione del trasversale, più elettroni possono passare. E se passano più elettroni nello stesso intervallo di tempo, vuol dire che c'è più corrente. Ma questo dipende anche dal tipo di materiale, e quindi ne teniamo conto con questa costante che viene appunto chiamata resistenza specifica o resistività del materiale. Questa è definita in base al tipo di materiale. La resistività di un conduttore è la resistenza che un suo campione di lunghezza e sezione unitaria offre al passaggio della corrente. L'inverso della resistività si chiama conducibilità. La resistività si misura in ohm per centimetro oppure 10 alla meno 2 ohm per metro. Allora, qui abbiamo una tabella dove praticamente vengono riportati i valori della resistività di vari materiali. Vedete, il rame ha una resistività di 1,72 per 10 alla meno 8 ohm per metro. L'argento 1,63 e l'alluminio 2,82. Vedete, l'alluminio è più resistente del rame. Il ferro ne parliamo proprio, 6,54 è ancora più resistente. Poi andiamo ai semiconduttori. Andiamo addirittura agli isolanti. Vedete, l'isolante e il vetro da 10 alla 10 a 10 alla 14. Quindi praticamente corrente negli isolanti non ne passa. Vedete, la paraffina 2,97 per 10 alla 16 ohm per metro. Quindi praticamente con i materiali isolanti non c'è il rischio di prendere la scossa. Ecco, vediamolo usando la nostra applicazione come si può verificare la legge di ohm. Quindi abbiamo detto che la resistenza di un filo al conduttore è direttamente proporzionale alla lunghezza e inversamente proporzionale alla sezione. Ecco, proviamo ad esempio ad allungare o accorciare il filo in questo modo. Vedete, se lo allunghiamo, vedete la corrente che ora misura 1,15 tende a diminuire. Infatti, vedete, 1,10, 1,9, vedete come tende a diminuire la corrente. Vedete, 0,95 perché allungando il filo la corrente diminuisce. Viceversa, se il filo viene accorciato, vedete come la corrente aumenta. E così via, ok? Adesso vediamo un attimo invece di far vedere come aumentando la sezione la resistenza diminuisce. Quindi allungando il filo la resistenza aumenta e la corrente chiaramente diminuisce. Adesso proviamo a raddoppiare la sezione. In che modo? Andiamo ad aggiungere praticamente un filo, un altro filo messo così. In questo modo abbiamo raddoppiato la sezione del filo. Come ne abbiamo messo praticamente due, uno vicino all'altro. Vedete che gli elettroni che passano sono il doppio. Vedete come la corrente è aumentata? 1,41 ampere. Se ne mettessi un terzo, ok? Mettiamone un terzo qui. Vedete? 1,56. Vedete come sta aumentando la sezione. Ok? Vedete come sta aumentando la corrente. Quindi all'aumentare della sezione del conduttore aumenta la corrente, così come era indicato in questa formula qua. E abbiamo cercato di spiegarlo perché. Perché se aumenta la sezione ci sarà un numero maggiore di elettroni che attraversano nell'unità di tempo la sezione del conduttore. E quindi la quantità di corrente tende ad aumentare e quindi la resistenza diminuisce. Quindi vedete come la ossia. Grazie.